Sportello, universo, donna. Ci sono davvero drammi umani e drammi sociali che sfociano in gesti estremi, come il suicidio di una donna di una quarantenne verificatosi nei giorni scorsi a Lama. Ci sono tante realtà represse, di sofferenza, che invece andrebbero estrinsecate. Bisognerebbe anche avere il coraggio di denunciare certe situazioni. Parliamo in generale, a prescindere dal caso specifico. Ne parliamo con Gianna Cavallo, responsabile del settore servizi sociali e pari opportunità dell'associazione Stella Maris. Sì, io vorrei ricordare a tutte le amiche che stanno ascoltando in questo momento che lo sportello universo donna non si rivolge soltanto alle donne vittime di violenza, di violenza psicologica o violenza fisica, ma è aperto a tutte le donne. Quindi l'appello fatto proprio di cuore, che nei momenti di sofferenza, di solitudine, di alzare il telefono, di fare anche soltanto uno squillo, noi saremo subito e immediatamente pronti a richiamare chiunque cerca aiuto allo sportello, pronti a coinvolgerle in tutti quelli che sono i nostri progetti, ma soprattutto a cercare di non farle sentire sole e a cercare poi insieme con tutto uno staff tecnico, ci sono dei mediatori familiari, dei mediatori culturali, psicologi, a fare un percorso proprio di recupero della propria personalità. Perché è peccato sentire oggi o ieri o forse anche domani notizie dove ci sono donne giovani che non hanno ancora un vissuto che possa giustificare anche dei gesti estremi. Con questo strumento eviteremmo la morte, la perdita di tante vite umane? Quello lo vogliamo sperare, ma quantomeno non saranno sole ad affrontare un percorso difficile.